Torna a sorridere l'AMBC Servizi che dopo un periodo di appannamento riesce a prendere due punti contro un avversario di qualità come la Cantini-Lorano-Firenze. La SBA ha il grande merito di tenere testa avanti per tutti i 40 minuti respingendo i tentativi finali di rimonta dei Fiorentini. L'Arezzo parte subito con determinazione cercando di spingere in velocità. Nel secondo quarto gli ospiti riescono a coinvolgere nel proprio gioco di attacco a Nicoci che mette in difficoltà la difesa a retina. Le triple di Sacchellario completano il recupero della Legnaia. La SBA però ha uno strappo nei secondi prima dell'intervallo quando la schiacciata di Gnanicelli ed un appoggio di Peluchini sono canestri preziosissimi che portano gli Amaranto a riposo sul 36 a 29. A rientro in campo gli ospiti provano a ricucire il divario ma l'AMBC Servizi è molto attenta in difesa. Gnanicelli si prende la responsabilità nell'uno contro uno e mette a referto una tripla che lancia la lungo Amaranto seguito poi da un canestro di Terrosi che vale più 11 alla terza sirena. La Cantini Lorano gioca la carta della zona ma Terrosi la punisce dall'angolo con due triple. Firenze reagisce e capitalizza avvicinando pericolosamente la squadra di coach Zanardo sino al meno tre. Un gioco da tre punti di Semprini e una tripla di Rossi fanno saltare il Palasport Estra che festeggia assieme a Iamaranto per il successo finale. 77 a 69. Il girone di andata termina così con una vittoria che fa alzare il morale all'AMBC Servizi che domenica prossima sarà impegnata nuovamente al Palasport Estra contro Sestri. Gianmarco Gnanicelli, giocatore originario di Roma, quest'anno ha prodotto alla corte di coach evangelisti. Cosa ne pensate della partita? Allora io penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e sia in attacco sia in difesa ci siamo aiutati e è questo che dobbiamo fare sempre d'ora in poi. Secondo me ci può portare ad ottenere risultati e stiamo migliorando giorno dopo giorno anche negli allenamenti quindi ecco questo essere squadra ha cambiato la partita e ha cambiato l'andamento anche e ci ha permesso di vincere.